Nome? Simone. Flavio. Età? 22. 42. Dove sei nato? Riccio Rimini. Buster Sizio. Che fai nella vita? Nuotatore. Medico gastroenterologo. E che ci fai qui a Roma? Non lo so, no, testimonial, IGBD. Sono qui per la conferenza stampa di Simone. E perché? Perché voglio far capire alla gente che si può uscire da tutto, anche da questa cosa, anche da queste malattie. Perché faccio parte del direttivo IGBD e voglio far capire alla gente che si può uscire da queste malattie. Che cosa si deve fare una volta che si scopre di avere la colita ulcerosa o la malattia di Crohn? Correre in bagno. No, scherzo. No, bisogna subito affidarsi a persone esperte che sanno quel che fanno come i medici di IGBD, quindi come ho fatto io. Affidarsi a un medico gastroenterologo e a un centro di riferimento. Perché è importante parlare delle malattie infiammatorie dell'intestino? Perché c'è tanta gente affetta da questa malattia e c'è tanta gente che fa fatica a farsi curare, quindi è importantissimo curarsi perché star bene è la prima cosa. Perché molte persone ancora si vergognano di queste patologie perché appunto vengono a coinvolgere un tratto di cui le persone provano vergogna ed è molto importante che si aumenti la consapevolezza di queste patologie. Quanto è importante il tempo nel nuoto e nella cura medica? Nel nuoto è importantissimo come nella cura medica. Bisogna fare il record in tutte e due perché è importante curarsi subito, non aspettare, non prendere subito la palla al balzo. Nella cura medica è fondamentale, la terapia precoce è fondamentale per il miglior outcome. Nel nuoto, insomma, se fossi un campione anch'io lo saprei, in realtà non lo so. Cosa significa essere pazienti nello sport e in medicina? Significa avere tanta pazienza che è dura, è veramente dura. Nello sport non saprei perché non sono uno sportivo, nell'ambiente medico essere pazienti vuol dire affidarsi. Cosa ti imbarazza Simone? A me davvero tante poche cose mi imbarazzano, quindi se riuscite a trovarne una sono curioso. E te Flavio? Anche a me imbarazzano poche cose, però diciamo che ho superato, il parlare in pubblico era una di queste e l'ho superata. Hai la ragazza? Eh, cosa? Non lo so. Diciamo che c'ho qualcosa di più, c'ho una moglie. Quanto è importante il rapporto con la partner? È importante perché sia un'altra persona con cui confidarsi, quindi è sempre un bene. Beh, siccome mia moglie vedrà questa intervista direi che è molto importante. E quanto è importante invece il ruolo della famiglia? Fondamentale, per me è stato tutto. Si parte dalla famiglia. La famiglia è fondamentale in ogni ambito della vita. Chi ti è stato vicino nelle difficoltà sino a oggi? Babbo, mamma e dottori. Mamma, papà, famiglia e mia moglie. Ci vuole più fiducia nella medicina o in se stessi? Beh, alla fine di conseguenza se si ha fiducia in medicina si ha fiducia anche in se stessi. Ci vuole molta fiducia in se stessi e bisogna avere anche tanta fiducia nella medicina tradizionale. Quanto ti alleni o quanto studi al giorno? Quanto mi alleno? Fermiamoci lì. Cinque ore, cinque ore, tutte. Quanto studio? Fermiamoci lì. Lo sport non è nelle mie corde. Chi è un medico per te? Medico è una persona che ha studiato medicina e che mi aiuta a star meglio, appunto. Un medico è una persona che, diciamo, che prende in carico e in cura un paziente a 360 gradi. E un gastroenterologo? Il gastroenterologo si occupa dell'apparato digerente e quindi mi fermo lì perché... Qualcuno dice che è il medico dei buchi, in realtà è un gastroenterologo, è un medico che cura l'apparato digerente. Meglio una donna per amico o un medico per amico? Una donna per amico. Anch'io sono d'accordo, una donna per amico. Mai trovato mai un medico per amico? Sì, ce l'ho, un medico per amico. Io ho tanti amici medici. Qual è il tuo record? Cosa? Di corsa dal bagno, in corsa in bagno o nuoto? Non ho capito bene la domanda. Se si riferisce a un certo ambito, devo dire che mi difendo. Preferisci la laurea o un primato mondiale? Entrambi, sono importantissime. Mi piacerebbe tanto fare un primato mondiale, ma direi che la laurea mi è bastata. Quanto conta la determinazione per te? È tutto, senza quella non si va da nessuna parte. La determinazione è fondamentale, fondamentale in ogni ambito. Il sogno che vorresti realizzare? Tocchio 2020, non dico un altro. Premio Nobel per la cura delle malattie infiammatorie croniche intestinali. A che età hai imparato a nuotare? Quattro anni, anzi prima. Cinque anni. Perché noi tutti beviamo in piscina mentre nuotiamo e voi atleti no? Noi facciamo altro. Però beviamo tantissimo anche noi, ci facciamo alle onde. Diciamo che io mi accomuno a tutti, cioè io bevo in piscina. Cosa pensi mentre sei in gara? La fatica che sto facendo e a fare al meglio le cose che posso fare. Gara. Quanto riesci a stare in apnea? In apnea, secondo me, tre minuti. Ma non l'ho mai contato, forse meno di 15 secondi. Per lo scatto della foto, Simone, sei stato in apnea molti minuti, quanto? Lì stavo soffrendo. Stavo soffrendo tanto perché non sono abituato a fare le foto senza occhialini sott'acqua. Quindi dovevo avere un'espressione normale mentre era impossibile. Quanto ci metti a fare i cento d'orso? Il cento d'orso in lunga 53 secondi, vasca corta 49. Guarda, secondo me se scendo sotto i cinque minuti sarebbe già un'impresa. Che cos'è la velocità per te? La velocità è star bene, perché quando stiamo bene andiamo forti. La velocità è una qualità fondamentale in molti ambiti della vita. Meglio essere veloci in vasca o nella vita? Alla fine se sei veloci nella vita sei veloci anche in vasca. Io posso parlare solo del fatto di quanto è importante essere veloci nella vita. Sei un tipo svelto, Simone? Sono abbastanza svelto e ci arrivo bene a capire le cose però. Sono abbastanza sveglio, diciamo di sì. Ma sei veloce e veloce proprio in tutto? No, no aspetta, fermiamoci. Veloce a nuoto, veloce magari a capire, poi altre cose ci metto un po' di più. Ci sono alcuni momenti in cui essere veloci non è fondamentale. Quanto conta il fisico per te? Il fisico deve star bene, quindi è tantissimo della parte, ma è tantissima anche la parte psicologica. Mi piacerebbe che fosse importante, in realtà non è una delle mie qualità fondamentali. Hai mai portato i capelli lunghi? No. Possiamo passare alla domanda dopo. E con la cuffia come fai? Con la cuffia adesso non la metto, quando sono un pochettini più lunghi è obbligatoria. Spesso a me non la richiedono. Costume slip o boxer? Boxer. Boxer. E lei cosa preferisce? Lei... niente. Boxer. Se dico dieta a cosa pensi? Sacrificio. Fa fatica fare la dieta. Enorme sacrificio. E se dico sacrificio a cosa pensate? Fatica. Studio e dieta. Cosa mangi di solito? Rizzo in bianco e petto di pollo, quello è il mio standard. Qualunque cosa che trovi sulla tavola, compreso McDonald's. Il tuo piatto preferito? Strozzapete e le canocchie. Lasagna al forno. Cosa scegli tra la cena dei tuoi sogni e una notte di sesso? Notte di sesso. Si mangia dopo. Notte di sesso. Quali sono le tue prestazioni? Sessuali o si riferisce... Prestazioni. Nessuno si è mai lamentato. Pensavo quelle sportive. Il tuo animale preferito? Il mio animale preferito? Cavallo forse. Direi il cane. Pensavo il delfino. Il tuo prossimo obiettivo? Il prossimo obiettivo... arrivare alla fine di questa giornata. Scherzo. Il premio Nobel, ovviamente. Cosa direste ai ragazzi che hanno lo stesso problema di Simone? Andatevi a affidare a altre persone che sono esperte come l'IGBD, perché state meglio e dopo viene tutto meglio. Affidatevi a un centro di riferimento, lo trovate sul sito dell'IGBD. Come si può essere campioni nella vita quotidiana? Si può essere, volendosi bene con gli altri, dedizione e sacrificio. Si può essere campioni in tanti modi, facendo quello che si è deputati a fare e lavorando sodo. Grazie Simone, grazie Flavio. Grazie. Grazie.